Vloggare con Marcello Ascani a Malta Occhio a non lasciarci La fotocamera Fa caldino eh? Caldo eh? Il piatto tipico maltese è il coniglio Infatti qua guidano a sinistra E sono un po' inglesi, cioè loro parlano molto bene inglese E hanno proprio l'accento british Buongiorno ragazzi Sono con Marcello Ascani Marcello è venuto qui a trovarmi a Malta Perché nella giornata di ieri Ha cominciato un corso di trading Con investire.biz Vi lascio il link in descrizione Per andare a vedere il vlog Della giornata di ieri Oggi vi portiamo a vedere un po' Malta Stiamo raggiungendo La Valletta Con il traghettino Che da Sliema ci porterà Proprio sotto l'ufficio Qui alla cattedrale della Valletta Ci sono due importantissimi quadri del Caravaggio Il famoso pastizzi Io ho preso il pastizzi al pollo Marcello alla ricotta È praticamente una specie di sfoglia fritta Quindi è super calorica Buona, mi piace Ah, una cosa importante del pastizzi Costa anche poco Perché costa 30 centesimi Finito di mangiare il pastizzo Era buono perché era fritto Era buono Era molto buono Adesso andiamo a vedere La città di Medina Siamo arrivati a Medina Questo è l'ingresso alla città Tutte le chiese di Malta Hanno due orologi Uno a sinistra E uno a destra Questo è un metodo Che i maltesi hanno sempre utilizzato Per confondere il diavolo Infatti Utilizzando questo stratagemma Il diavolo non sapendo L'ora esatta Si sarebbe recato in chiesa All'ora sbagliata Lasciando tranquilli I fedeli Nella loro preghiera Se vi siete mai chiesti Cosa fa Marcello Durante un timelapse Ecco la risposta Niente Niente Cura la videocamera Visto il caldo Andiamo di insalata Con salmone e gamberi Proviamo a far alzare il drone Marcello prova a far alzare il drone Perché io non ho il drone E non sono capace di guidarlo Mai avuto un drone Invece ti facevo il tipo del drone Sano e salvo a casa Bravo Marcello Siamo arrivati a Dingley Cliff Dove ci sono delle bellissime scogliere Nel mentre il sole è andato via E si sta un pochino meglio Anche se continua a fare un caldo torrido Adesso andiamo a Marcello's Clock Che è un villaggio di pescatori Dove vedremo le tipiche barche maltesi Che sono tutte colorate Ho accompagnato Marcello in aeroporto Grazie mille Mi hai scorrazzato ovunque Sta ripartendo alla volta di Roma Domani parte per New York Quindi sempre in giro Noi ci vediamo Il prossimo mese Ci sarà la seconda lezione del corso Sarò io a venire a Roma da te Così sarò io a scorrazzarti Buon viaggio Marcello Va bene È stato un piacere È stato un piacere È stato un piacere È stato un piacere Tipo Chiara Ferragni autonome Grazie.